Siamo tornati in game, questa è ItalianSportNetwork, io sono Urkukan e questo è anche il torneo dei 1500 iscritti per il gruppo Facebook di StarCraft2Italia Ma andiamo subito a presentare i giocatori partendo dal Terran che spona nell'angolo in alto a destra della minimappa con il colore arancione per il team Extreme Supremacy Stiamo parlando del grande D-Ord Giocatore ranking Grandmaster, uno degli ultimi ad arrivare in questa divisione dedicata ai migliori giocatori di StarCraft del continente europeo Che dire, come vediamo dal suo TVZ è attestato al 46-81% soltanto su 71 match, 69 scusate Un giocatore sicuramente che merita molto visto il suo incremento nella skill che ha mostrato dai tempi degli old school clan Quando andava ad allenarsi con il buon narcotic fino ad arrivare al team Extreme Supremacy che è nato da meno di un anno e già sta regalando molte soddisfazioni agli appassionati di StarCraft2 italiani Ma andiamo a vedere anche il suo avversario, spona nell'angolo opposto, ossia in basso a sinistra con il colore rosso per il team Extreme Supremacy Stiamo parlando dello Zerg, venivi di Beans Altro giocatore d'eccellenza, altro Grandmaster questo Zerg, anche lui è migliorato tantissimo negli ultimi tempi Infatti ne parlavamo soltanto pochissimi giorni fa in occasione del torneo dei Gagadetti con il buon Leovil I miglioramenti di Vincent sono stati veramente incredibili, anche lui dal tempi degli old school clan Sta regalando veramente molte soddisfazioni agli appassionati di StarCraft2 italiani E molto probabilmente lo vedremo anche nelle prossime occasioni partecipare a tornei di Premier League L'abbiamo visto nel DreamHack Open di Francia, non è qui segnato tra gli eventi del 2015 ma è questo uno dei tornei che l'ha visto partecipi Comunque il suo ZVT ha testato al 21,74%, soltanto 28 match al momento per il buon Vincent Vedremo cosa ci offrirà in questo stesso game Intanto torniamo con l'interfaccia completa per la presentazione dei due giocatori, delle opening dei due giocatori Credo che ci sia a CiriFest per Vincent con anche la pool e l'estatore di Vespene a 15 D'altra parte credo CiciFest da parte di... no, Warax FastExp per il buon Dior con raffineria presa credo a 13 Si sono visto male, intanto c'è lo scout e anche l'SCP di Dior che dà un po' di fastidio al buon Vincent Best of 3 vi ricordo, quindi si gioca tutto con i primi game Vediamo già a PM da parte di Vincent sfiorare le 300 a PM in early game Quindi sicuramente un giocatore come vi dicevo che è migliorato moltissimo negli ultimi mesi E sicuramente darà molte soddisfazioni nelle competizioni in cui andrà a prendere parte Intanto vediamo incremento metabolico già startato da parte di Vincent Va a scoutare con un unico link C'è già il bunker di Dior che va anche a piazzare i primi depositi per wallarsi Fabbrica subito dopo la Rax, quindi un opening abbastanza standard per Dior Vedremo cosa vorrà fare, secondo raffineria preso a 26 di supply Ci sarebbero gli estremi anche per lo spazio porto e qualche Benchy Intanto buono anche il piazzamento dei sorveglianti da parte di Vincent di Venemi di Vince Che va a coprire i due corridoi laterali della mappa Quindi per avere più visibilità possibile su eventuali drop E infatti spazio porto in costruzione Subito switch tra fabbrica e caserma E arriva il modulo tecnologico Quindi quasi sicuramente Benchy e forse anche Alien con il supporto di Elbat Ma dall'altra parte abbiamo già la colonna delle blatte in costruzione per Venemi di Vince Molto probabilmente arriveranno quindi un push di blatte Come abbiamo visto possono essere molto deleteri push di blatte Specialmente quando l'avversario Terran opta per delle unità leggere come Alien e Benchy Insomma che non sono sicuramente Soprattutto le Benchy non sono prodotte in altissimo numero all'inizio del game Quindi non possono contrastare un alto numero di blatte Intanto arrivano altre due Alien in campo Mentre escono anche le prime blatte per Venemi di Vince Che si sta preparando forse per un possibile push in arrivo Altre cinque blatte in produzione Stanno arrivando anche dodici Ling Mentre escono in questo momento le Alien di Dior Che credo abbia intuito la mossa del suo avversario Sta rientrando poco con i Ling sul wall di chiusura di Dior Che sta producendo la prima Becci ma anche altre due Alien Arrivano le prime blatte, cerca di tancare i danni con le blatte Si sposta, riesce a passare sopra il deposito abbassato del giocatore Terran Viene sollevato soltanto in questo momento Il focus subito passa sul bunker L'overipide da parte di Dior E riesce a contenere soltanto per pochi istanti Infatti cade il bunker e arriva la Benchy In questo momento cerca di migrare al meglio le sue Alien Consetto pullare anche gli SCV che cercano di tancare qualche danno Mentre stanno arrivando rinforzi per Venivi di Vince Riesce a sfondare in questo momento il giocatore Zerg Mette in hold gli SCV per cercare di bloccare l'avanzata dei Ling Arretra il più possibile Dior con le sue Alien La Benchy intanto sta cercando di fare più danni possibili Ma continua ad arrivare sempre rinforzi per lo Zerg Che ora ha sfondato, è entrato nella base principale del giocatore Terran Che è costretto a difendersi solo con tre Alien in questo momento E una Benchy, ora si trova sulle patch minerarie della base principale Costretto a pullare nuovamente gli SCV Dior sta soffrendo, finisce l'Armeria in questo momento E smorfa subito l'Alion in Elbat Ora può forse respingere meglio le Blatte Ma ha subito tantissimi danni Stanno arrivando anche ulteriori rinforzi Riescono a passare su un Elbat Che era lì per bloccarli sul wall di chiusura I Ling vanno a separarsi Mentre è costretto a difendersi su più fronti Il giocatore Dior sembra abbia sedato comunque Questo push, piovono infatti i muli E andiamo a vedere le perdite Bene, 13 lavoratori Sarebbe potuto andare molto peggio per il giocatore Terran Che diciamo ha reagito molto bene a questo push Cercando di contenere il più possibile Dall'altra parte infatti arriva subito la tech Ha Tana per Veni Vidi Pinz e anche il Lindoday Beneling E a questo punto il contropush a base di Benshi Da parte del giocatore Terran Si sta spostando su un fianco Molto probabilmente vorrà mettere pressione Sulla netura del giocatore Zerg Che dall'altra parte ha il Ling Quasi a metà mappa Si spostano le Benshi Non c'è nessuna, no C'è già la difesa, il primo lanciospore Per Vincent Subito parte il clock delle Benshi E ha già preso la sua seconda espansione Il giocatore Zerg Mentre lo stesso Zerg sta poccando sulla rampa Per cercare ancora di scautare Le unità presenti in game Del suo avvisario Oramai ci sono soltanto gli Elbat Che possono contenere abbastanza bene i Ling E lo switch da parte di Vincent Con il pinnacolo Quindi decide di switchare a unità aeree Mentre ancora le Benshi di Dior Cercano di trovare il migliore angolo D'ingaggio nella base principale Poi si spostano ancora sulla Natural Ma ci sono molti lanciospore Quindi non faranno molti danni Ancora il POC sulla rampa Da parte di Vincent E i danni sul Beneling Nest Sul Nido dei Beneling Ottimo l'uso delle Benshi Da parte di Dior Riesce a intercettare anche il pinnacolo Di Vincent Si mette male per il giocatore Zerg Non può annullarlo Non l'ha annullato comunque E arrivano subito due Queen Non ha tempo per le trasfugie Sposta l'imparatore Ma è troppo tardi Perde una Benshi Ma ritarda tantissimo La giocata dello Zerg Con le muta In produzione ancora una mutalisca Mentre ancora cerca di pushare Con un Beneling Bust Su il wall di chiusura Riescono a passare tutti I Beneling Si dirigono sulle patch minerarie Ora cerca di spettarli E una strage di SCV Colti impreparati per Dior Va a perdere altri 35 In totale 35 SCV Con questo Beneling Bust Di Vincent Scende lo PSI Di Dior A 52 Mentre Vincent È ancora a 79 Di PSI Ha anche una seconda espansione Praticamente ultimata Chiede una pausa Il giocatore Terran Probabilmente cerca di prendersi Da questo momento Da questo impasse Su La sua natural Ci sono già i primi torri In campo Intanto sta passando Di Blatt e Vincent Vediamo commenti Faccia sorridente Da parte di Vincent Probabilmente Ha capito di essere Decisamente in vantaggio In questo momento Nel game Commenti di Vincent Sul suo compagno di squadra Dior Che ha perso Lo ricordiamo ben 35 SCV La vedo veramente dura Riprendersi 33 SCV Contro 54 droni Al momento Siamo comunque Al primo game Quindi Ancora tutto aperto Aspettiamo ancora Per vedere se Dior Riuscirà a riprendere Il game Speriamo di sì Perché altrimenti Dior Ora Alla Alla ancora in pausa il game vedremo se Dior riuscirà a riprendersi non so che tipo di problema abbia al momento tra l'altro non posso neanche leggere nella mia chat quindi possiamo soltanto contare su di loro al momento grazie aspettiamo per vedere cosa accadrà insomma non so neanche cosa fare perché Dior probabilmente dovrà assentarsi forse immagino questo e invece miracolosamente si riprende subito che ovviamente conferma al suo avversario Vincent se è disposto a arriva il ready riprendiamo il game quindi siamo pronti arrivano altri lanci a spore da parte di Vincent che si piazza anche con i lanci a spore sulla seconda espansione diciamo andiamo a vedere l'income dei due giocatori dopo le perdite 35 lavoratori persi da Dior siamo però con un income quasi alla pari questo insomma vi dà l'indice della potenza dei muli della razza Terran la seconda espansione per Dior è già ultimata quindi può sfruttare comunque l'energia per droppare appunto muli in campo sono ben 6 muli in campo per il giocatore Terran intanto arrivano un push di Blatt da parte di Vincent la ricerca degli artigli escavatori e del rintanamento per il giocatore Zerg mentre una caserma scout va a vedere subito con un ottimo tempismo la demolizione delle rocce sul rampa d'accesso secondaria arrivano l'Eleon subito Morpho in Elbat ci sono già i Thor molto probabilmente Dior sta optando per un McPlay a giudicare dal numero di unità meccanizzate in campo Thor, Tank, Ed, appunto, Elion ed Elbat distrugge i detriti no, quasi distrugge i detriti si sposta appena in tempo Vincent su play bloccato in questo momento per non perdere danni intanto ritarda il piazzamento della seconda espansione il giocatore Zerg che sta puntando in questo momento nuovamente su un push sulla natural del giocatore Terran ci sono moltissime blatte di Vincent che cerca di fare più danni possibili arrivano i tank esigiati di Dior che si piazza ottimamente sul cliff fa scendere soltanto i Thor e l'Eleon più il supporto delle Benshi una giocata di Mc come vediamo molto sicura per Dior riesce comunque a rintuzzare i vari attacchi nonostante sia al momento in inferiorità per quanto riguarda il numero l'opsi appunto in campo 95 per Dior contro 111 per Vincent e che va a prendere la sua terza espansione ancora finisce la ricerca delle artiglie scavatorie arrivano anche le idralische in campo aculei scanalati in ricerca e iniziano anche gli upgrade per lo Zerg che è leggermente indietro per quanto riguarda gli upgrade come vediamo ancora nessun upgrade per gli attacchi a distanza e l'armatura mentre il buon Dior è già al 2-2 per quanto riguarda gli upgrade delle sue unità ora ricerca anche il Blue Flame per le sue Elion mentre si sposta a Dior per cercare di presidiare la sua seconda espansione dovrà difendere diversi punti di ingresso per la base principale la natural e la seconda espansione che è attaccabile tra l'altro su tre fronti differenti c'è già un torretta lancia misseri quindi le blatte rintanate non avranno scampo nonostante questo di Vincent manda in avanza scoperta alcune blatte l'Incam a questo punto credo che sia avanti per il giocatore Zerg che infatti ha una terza espansione un lanceri in più rispetto al suo avversario e arrivano giustamente con un McPlay le prime Viper in campo la tech ad alveare è stata già ultimata per Vincent quindi andrà molto probabilmente Blatte Hydra e Viper Composition che oramai ha sostituito le Viper hanno sostituito l'Infestor da Wings of Liberty su Ozz addirittura va a prendere una quarta espansione perché no oramai ha il controllo della mappa completo Vincent quindi può permettersi anche di andare a prendere più espansioni del suo avversario che continua a cercare di bunkerarsi in una moda di Tartal mi ricordo un po' l'Illecanin dei bei tempi speriamo non durino tre ore e passa i game di questa finale ma comunque ci saremo in ogni caso ancora in avanti D-Ord si espone al colpo dei tank per cercare di distruggere i detriti perde però molte Blatte tank vi ricordo 2-2 al momento per D-Ord mentre ancora soltanto 1-1 per Vincent è partito molto in ritardo con gli upgrade stava spostando parte del suo esercito D-Ord per difendere l'entrata ma era soltanto un POC di Benivi di Vince che voleva saggiare le difese su la rampa d'accesso secondaria nuovamente ci riprova doppio pinnacolo per Benivi di Vince questo vuol dire quasi sicuramente patriarchi in arrivo per il giocatore Zerg e giustamente anche perché sta bancando tantissimo minerale quindi conviene a questo punto startare le ricerche magari anche inutili in un momento del game che si potranno rivelare utili magari più avanti visto che il game sembra durare abbastanza intanto 4 Benshi per D-Ord in avanti Vincent è maxato a questo punto dovrebbe cercare di pushare visto che non può fare molto altro con tutto l'esercito maxato ha comunque intercettato le Benshi in arrivo quindi sposta il suo esercito Vincent ha un pieno controllo della mappa praticamente metà della mappa è completamente sotto controllo di Vincent perde in questo momento un sorvegliante ma avrà sicuramente intuito lo spostamento del comando orbitale di D-Ord per la sua terza espansione ancora un altro sorvegliante perso da D-Ord che sta startando il 3-3 per quanto riguarda gli upgrade delle sue unità meccanizzate intanto arrivano 4 besci da attaccare sulla quarta espansione di D-Ord che si sta di Vincent che si sta spostando in avanti rientra in questo momento perché ha perso un lanciaspore ha comunque altri lanciaspore pronti per la difesa cerca di evitare di perdere droni al momento comunque siamo abbiamo invertito il valore di income nel senso è passato in avanti D-Ord rispetto Vincent ritorna all'esercito del giocatore Zerghe un abduct credo che abbia perso una delle 4 bench infatti ce ne sono soltanto 3 in questo momento grazie a un abduct di una Viper che non è stata vista in quel momento intanto vediamo anche altre ricerche puntamento automatico per D-Ord e altre due se non ho visto male si altri due comandi centri di comando in ultimati per Eterran si sposta in avanti con gli Overseer buon Vincent è ora ancora abduct da parte di Vincent su uno dei tank siggiati anzi su tutti e due tank riesce a distruggere il l'indetriti si sta spostando per andare a difendere la sua base principale ma arriverà decisamente in ritardo il buon D-Ord vediamo il dispiegamento già di Vincent lungo tutta la base cerca subito il focus sulle strutture principali cortina per distrarre l'attacco dei tank siggiati niente da fare per D-Ord ancora altri 4 tank altre cortine subito l'attacco da parte di Vincent che riesce agevolmente a distruggere tutta la fila di tank rimangono soltanto le bench in campo arrivano i Raven probabilmente stava switchando ad Air Play il giocatore Terran ma non ha fatto i conti con questo prevedibile push di Vincent che al momento era supply era maxato quindi subito distrutti tutti i tank arrivano i Thor per cercare la difesa riesce a sedare l'attacco del suo avversario il giocatore Terran D-Ord ma ha perso credo molto più del infatti di Ozerga ha perso 17k di minerali contro i 12 persi 13 in questo momento da parte di D-Ord ancora un altro push di Vincent che è andato a prendere anche la sua quinta espansione sulle patch minerarie dorate e lo switch ammuta da parte di Vincent lo vediamo in questo momento in campo ben 33 mutalische per il giocatore Zerg subito il focus sulle torrette lancia missili che vanno a difendere questa fortezza planetaria che si trova piazzata tra la seconda espansione e la Netural ancora il focus sulle torrette lancia missili per ripulire anche vicino la seconda espansione ci sono un buon numero di viking non sufficienti però il numero di muta è decisamente impressionante in questo momento subito il focus sulle viking e poi sui raven rimangono poche unità in campo lo split molto buono delle mutalische per evitare lo splash damage del tor unica difesa al momento per il giocatore Terran cade anche il tor rimangono pochissime unità in difesa che possano counterare questo muta play del giocatore Zerg stanno cadendo le viking una dietro l'altra arrivano le mine in questo momento da parte di Dior e ancora il fuoco delle mutalische di Vincent che vanno a cercare di eliminare le ultime viking in campo e poi si concentrano ancora sulle torrette lancia missili ci sono altre mine in arrivo per Dior e altre viking mentre continuano a fluire sempre i rinforzi per Vincent volano sulle 300 le apm per il giocatore Zerg che sta anche pushando su la base principale con un rambai di speed ring sulla rampa secondaria appunto d'accesso alla base principale ancora mutalische in prima linea su la natural cerca il focus su le unità residue del giocatore Terran che movimenta comunque tutte le sue mine e arriva a risotterare in questo momento li sposta ancora nuovamente in avanti mentre arrivano i ding sul retro e rientrano per attaccare le elbat e le ultimi tank a disposizione mentre continuano arrivare ancora rinforzi per l'attacco primo game incredibile in questa semifinale del torneo 1500 iscritti del gruppo facebook di stack of 2 italia ancora muta in avanti con questo push che continua ad eliminare torrette del giocatore Terran lasciandolo esposto appunto sempre all'attacco delle muta che continuano sempre a fluire 7 muta in produzione 20 ling lo switch a muta speedling a muta ling del giocatore zerg sembra produrre i suoi frutti infatti sta mettendo in seria difficoltà il Terran ha distrutto già tutte le torrette lancia missili ed è costretto a difendersi con un tappeto di mine che se coglieranno le muta faranno veramente tantissimi danni visto che sono 6 mine avvicinate intanto ancora attacco sulla terza espansione del giocatore Terran subito il focus sulle torrette lancia missili anche sulla fortezza planetaria prima di passare agli scv che stanno appunto dronando sulle terze patch minerarie terza espansione del giocatore Terran e ancora distrugge la torretta di rilevamento e si concentra sull'ultima struttura più importante la fortezza planetaria che cade in questo momento sta arrivando l'esercito di Dior ma non fare tempo perde una fonte di approvvigionamento importante per il giocatore Terran arrivano altre viking cerca di attirare sul campo di mine il giocatore zerg riesce a dirottare parte delle mutalische però si sta facendo avanti Dior con tantissime mine in campo ben 13 mine per il Terran intanto arrivano ancora le mutalische colpo di mine su tutte le muta che cercano il focus sulle viking c'è soltanto una besh che ovviamente non fa un gran che visto che non ci sono unità terrestri per il giocatore zerg intanto quasi finito il cooldown per le mine e si allontanano appena in tempo le muta vanno il focus sulle ultimi Elbat e l'ultimo tank a disposizione di sotterra le mine arrivano le muta di Vincent subito parte il focus sulle singole mine per cercare di eliminarle una ad una 105 l'opsy per Dior 174 per Vincent nuovamente quasi rimaxato il giocatore zerg 6 espansioni 7 basi 7 aceri in campo per Vincent un income che continua ad essere sostenuto sui 2k mentre vediamo Dior soffre tantissimo su quel lato e credo che il game oramai si volga verso il termine visto che Vincent sembra voler dare il colpo di grazia al suo avversario nella base principale con tutte le muta rambai di speeding sulla natural e anche sull'ennesima terza espansione dove ci sono una selva di muli che sembra mantenere ancora in vita il giocatore Terran che però sta perdendo le sue strutture principali tutte le fabbriche vengono focussate dalle muta e vengono anche focussati i torri appena usciti come abbiamo visto in questo momento sta attaccato anche il più 3 per gli attacchi delle unità volanti delle muta dische per l'appunto mentre Dior sembra puntare in un base trade con il suo tappeto di mine e due torri in prima linea dall'altra parte ancora speed ring che cercano di fare danni sulle mine appena uscite ottimo il tour round in questo caso mentre c'è Dior che come vediamo attacca con i torri sulla quarta espansione le mine stanno ripiegando in questo momento vengono colte impreparate dalle muta che cercano il focus ma sono tantissime le mine in campo ancora per Dior che possono fare molta paura a Vincent visto che una serie di colpi di mine potrebbe portare a zero l'esercito di muta dische del buon Vincent ancora si spostano le mine come vedete su le patch minerarie cercano di eliminare il tutti i lavoratori del giocatore Zerk che sta rientrando in questo momento non si è accorto delle altre mine presenti in campo e ancora in avanti base trade a questo punto non ha altra scelta il giocatore Dior mentre Vincent ancora con le muta va ad attaccare la terza espansione di Dior ancora subito il focus sulle torrette lancia missile e poi probabilmente andrà ad eliminare il comando orbitale mentre Dior sta cercando di rientrare decide di andare in difesa in questo momento delle sue espansioni ma perde la terza espansione ancora credo altre strutture in campo altri tre comandi orbitali che potrebbero e due fortezze planetarie che potrebbero essere utilizzate ovviamente i comandi orbitali non le fortezze planetarie intanto ancora un altro scontro Muttalisk in prossimità delle mine arrivano i colpi riesce a salvare il grosso del suo esercito Vincent nuovamente rimaxato 193 su 200 per lui 71 per Dior ancora in avanti Dior con quel che rimane del suo esercito ancora non ha molto continua a produrre soltanto unità aeree Benshi e Viking ancora il focus di Vincent sulle Viking ma niente da fare si allontana appena vede le mine sotterrate cerca di attirare il suo avversario sul tappeto di mine arrivano i primi colpi perde molta energia ma sopravvivono comunque la maggior parte delle mutalische di Vincent tretta speedring e due muta in produzione per lo Zerg ancora un altro Thor un'altra Benshi per per Dior manda una muta alla volta per fa scattare le mutalische GG da parte di Dior vince il primo game venivi di Vince grazie a tutti per la parte di Dior che si chiama per la parte di Dior